A Pierantonio la parola d'ordine è normalità, o almeno trovare le strade per far sì che i residenti tornino nelle case e che la realtà possa somigliare il più possibile a quella che il 9 marzo è stata sconquassata con il terremoto. Intanto c'è da segnare sul calendario sabato l'arrivo nella frazione del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, mentre giovedì 6 aprile sarà la volta del ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Nel frattempo il vice sindaco di Umbertide, Annelisa Mierla, fa un po' il quadro della situazione a partire dalle case. L'amministrazione comunale, ha detto, ha valutato la disponibilità dell'edilizia residenziale pubblica e sociale per le nuove assegnazioni, ma gli alloggi non occupati necessitano di interventi di messa a norma da parte dell'Ater, quindi non sono disponibili, spiega. La vice sindaco aggiunge, abbiamo creato una rete con l'agenzia immobiliare di Umbertide per cercare di ricollocare gli sfollati il prima possibile e chiudere il centro di accoglienza. Si sta facendo anche una intermediazione con il fondo di housing sociale chiedendo di calmierare gli affitti alla fornace e già si è ottenuta una riduzione dei prezzi.